Onorevole Meloni, come giudica le misure adottate fin qui dal governo per contrastare l'epidemia? Guardi, io penso che le debbano giudicare gli italiani. Noi stiamo cercando di evitare le polemiche e le valutazioni le faremo alla fine. Quello che però è intollerabile è che il governo ti dica un giorno di sì e un giorno di no. Un giorno puoi correre, un giorno non puoi correre, un giorno puoi correre, un giorno puoi correre a 200 metri, un giorno puoi portare il bambino, un giorno non puoi portare. Cioè questa confusione, questa bulimia comunicativa chiaramente genera ancora maggiore ansia e insoddisfazione nei cittadini. Servono iniziative decise e comunicazioni chiare. È soddisfatta di come il governo sta dialogando con le opposizioni? Io sono rimasta abbastanza stupita da una intervista del Presidente del Consiglio Conte nella quale Conte diceva che in buona sostanza le nostre proposte sarebbero pretestuose e irrealizzabili. Sono rimasta di stucco perché non più tardi di ieri ci è stata chiesta ancora maggiore collaborazione, siamo stati ringraziati per la serietà delle nostre proposte. Evidentemente il governo preferisce fare propaganda, ognuno si assumerà le proprie responsabilità. Come nasce la proposta di Fratelli d'Italia di dare 1000 euro a chi ne ha bisogno? Il governo ha immaginato cassa integrazione piuttosto che contributo con gli autonomi, ma non è in grado di dire quando verranno pagati questi soldi. Io la penso così. Nel dubbio gli italiani che hanno bisogno devono poter chiedere 1000 euro allo Stato italiano, secondo determinati criteri, per chi non ha un reddito, per chi non ha i soldi in banca, ovviamente, e devono poter avere quei soldi subito. Lei ha più volte detto che il grande assente di questa crisi è proprio l'Europa. L'Europa ha dimostrato non solo di non esistere in questa fase, purtroppo ha dimostrato qualcosa di peggio. Qualcuno spera di metterci in ginocchio, e spera di metterci in ginocchio per venire a fare acquisizioni a basso costo a casa nostra. Non è l'Europa della solidarietà. È l'Europa che ha aspettato il terremoto a casa nostra, per poi venire a rovistare nelle macerie e fregarsi l'argenteria.